la musica classica lui invece è tutto un altro generale appunto la tecno e la musica 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 è anche ai giovani che cosa si dice in queste case ai giovani? Chi si può insegnare? Non si vengono essere un'acto, vuole passare alla tele, tutto ciò che non è così. Penso che ci sono davvero attraversa una vita a tutti. Non si vengono, perché non si vengono la vita, non si vengono la vita, non si vengono le cose. Non, non se vengono la vita, non mi sono lì, ma vita che non le fa, non la vita è un'esprezionata. Ma prima cosa è lì, perché vedete che vengono, ecco, si vengono... ...se vengono la settimana, perché vengono la settimana, perché vengono i rifiuti, che aveva ristorato questo film e trovo che sia un momento molto interessato per il film a film. Iman Madero, produttore di Iman Brandero, con un'intervista ci ha detto che è il momento adesso di fare film più importanti, più impegnati in film, se la sei da poi. Grazie a tutti! Grazie. 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 Grazie.